Onterrati a tutti! Essere giocato a Milano per me è importante, soprattutto perché sono vicino alla mia famiglia e ai miei amici, che non è lontano, però non è vicino a Milano. E essere andato a giocare a Milano è sicuro che sono sempre stato un mio sogno, quindi sono contento. Però preferisco inciare giocati a non parlare. La presa, il luogo, la città, la maniera, la maniera, la maniera, la maniera, la maniera, la maniera. No, è tutto. E per me, la Premier League è un'ottima giocatore, e credo sia il migliore. E la città, la piazza, è un'ottima giocatore. Quindi, non so se per il futuro, se potrei andare o non, ma per il momento penso che sia qui e voglio giocare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.